Chiamo palla al mio compagno, utilizzo la voce, utilizzo magari anche il linguaggio del corpo che l'indico al mio compagno dove voglio la palla, lei è un po' sordo, non ci sente Utilizzo il corpo, il linguaggio del corpo è questa, è la mano, voce e mano, di dove corro? Do una mano al mio compagno sia aiutandolo con la voce, quindi che lui sente che ci sono e che sono pronto per ricevere, se magari non sente però mi sta guardando, gli indico con il mio corpo, con le mani dove voglio la palla e gli do un'indicazione utile a lui per dove darmi la palla, ok?